Ho visto delle onde forse non troppo sicure, è meglio spostarsi verso il ponte qua, lo dico col sorriso ma... Credo che le immagini parlino da sole, veramente, guardate che roba, cioè guardate, lì io sono qua, c'è il finimondo tra poco, manca poco e c'è il finimondo. Scusate se mi ripeto ma spero abbiate capito, questo torrente in genere è secco in questa stagione, non c'è acqua, si può andare giù in mezzo a camminare, poi vi farò vedere le foto. No, cioè se esce questo sono in un altro posto, non quello di prima prima, se esce questo è la fine, sono qua, guardate, qua e lì c'è l'acqua, incredibile. Ecco e adesso, adesso è dura perché qua veramente il finimondo, il finimondo, il finimondo! Ecco! 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 EccoX traveling! Ecco! Ecco!